Hai impostato il video? Sì, partito! Ok, ragazzi buongiorno a tutti! Tapascione della Pianza in trasferta a Cantù, o meglio, quello che resta di Tapascione della Pianza. Angelo, Gianmario, Ernesto, Valeria e il nuovo entrato Matteo. E gli altri sono tutti al mare, anzi, Oscar è partito prima perché ha detto tanto mi raggiungete. Maurizio, il capitano presidente al mare, no, Daniele e Marco sono a fare una gara, quindi in bocca al lupo a loro. Niccheta è al mare a correre in Pineta. Un abbraccio a tutti, ci vediamo durante il percorso. Ciao!